Le proprietà delle ciliegie Proprietà delle ciliegie, benefici, calorie e valori nutrizionali Quali sono le proprietà delle ciliegie?. Quante calorie hanno questi gustosissimi frutti ed è vero che dietro il loro sapore dolce e succoso si nascondono diverse proprietà benefiche per salute ed estetica. Scopriamolo. . Per scoprire tutte le proprietà benefiche racchiuse in questi piccoli frutti rossi non si può che partire dall'analisi della loro composizione e dei loro valori nutrizionali. . Dato il loro sapore dolce verrebbe subito da pensare che le ciliegie siano uno frutto dall'alto contenuto calorico, ebbene non è proprio così. . Gli zuccheri delle ciliegie sono a basso indice glicemico il che rende questi frutti assolutamente permessi sia nelle diete dimagranti che per chi soffre di diabete. Gran parte delle proprietà benefiche di questi frutti sono legate proprio al loro basso contenuto calorico, e alla presenza di vitamine, acqua e proteine. . Andiamo a scoprire meglio quello che si nasconde all'interno di questo frutto all'apparenza così piccolo e modesto. . Ognuno di questi elementi conferisce al frutto una proprietà specifica e caratteristiche benefiche per l'organismo umano. . Bisogna poi considerare che i valori nutrizionali per 100 g di ciliegie sono pari a circa 38 cal. . Per intenderci lo stesso apporto calorico che sia mangiando una fetta di pancetta cotta o un cucchiaino di formaggio grattugiato, ma con la differenza che 100 g di ciliegie corrispondono a circa una dozzina. . Ma cosa contengono effettivamente le ciliegie?. Quali sono gli elementi che conferiscono a questo frutto le caratteristiche di benessere? Vediamo di rispondere a queste domande analizzando i vari componenti. . Le ciliegie sono ricche di vitamina K ossia l'elemento basilare nella coagulazione sanguigna. La vitamina K viene assorbita dal fegato e qui innesca dei meccanismi di produzione dei fattori necessari alla coagulazione del sangue. . Sono frutti zuccherini a basso indice glicemico Le informazioni sull'indice glicemici le trovi in questo articolo, ma non contengono lattosio. . Forniscono un apporto energetico basale, inoltre, contenendo acido malico favorisce la digestione degli zuccheri e l'attività del fegato. . Le ciliegie contengono l'alcol perillile una particolare sostanza appartenente a un gruppo complesso. Definito monoterpeniche sembra avere qualche effetto di contrasto nell'insorgenza di alcuni tumori, quali, quello al seno, alla pelle e allo stomaco. . Le ciliegie contengono sorbitolo, una sostanza dolcificante contenuto negli zuccheri che le conferisce un alto potere diuretico e un effetto lassativo, permettendo di regolare la normale funzionalità del fegato. . 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 Grazie a tutti.